Patrizia Rita Di Gregorio che ci è venuta a trovare direttamente da Trento, benvenuta ai nostri microfoni dottoressa. Grazie mille. C'è un metodo come quello della dottoressa che vi ricorda tutto l'anno di mangiare bene. Ecco, uno dei consigli che tu dai di solito, quale qual è? Il più importante di tutti è quello di veramente dar retta a tutte le maggiori organizzazioni che si occupano di salute e alimentazione. Mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Pare impossibile con i nostri ritmi ma io ho trovato degli ottimi sistemi. Che adesso sono curiosa anch'io di sapere come facciamo, devo segnarmi, devo aggiungerla sui social, poi ne parliamo. Lo diciamo a fine intervista, quali sono i contatti per della dottoressa? Ecco, dato che abbiamo nominato l'estate, sta arrivando l'estate, quindi ci sono le frutti in particolare che bisogna mangiare o qualsiasi tipo di frutta? Io consiglio sempre di mangiare prodotti di stagione, chiaramente, più naturali possibili, magari biologici, magari a chilometro zero, magari come meglio potete. Andate dalle vecchiette che conoscete a prendere. L'orto del nonno e allora lì potete estrarre, centrifugare oppure pensate a che cosa ci può essere nel mercato dove la tecnologia, come i social media servono proprio per divulgare questo progetto, anche la tecnologia ha aiutato spesso a mangiare più frutta e verdura. Molti pensano che il ruolo del nutrizionista sia quello che deve mettere ansia perché altrimenti la persona non mangia bene o non fa la dieta, non segue la dieta o i consigli che vengono dati? No, io invece credo che bisogna creare complicità. Il segreto è la complicità. Se, specie due donne, si mettono insieme e sono complici su una cosa, io credo che ci riescano sicuramente meglio. Assolutamente, anche perché poi diventa come se fosse un consiglio dato da un'amica. Certo. E il consiglio dell'amica l'ascolti molto volentieri. E la possibilità di essere seguiti tramite un whatsapp, tramite un messaggino su un messenger, quando si sta per cedere, oddio Patrizia che faccio. Non lo vale. E allora lì magari abbiamo la soluzione, abbiamo l'inganno che si può dare alla nostra mente per non buttare all'aria tutto. Parte il video della dottoressa dove dice non lo devi fare, perché dopo ci sono queste conseguenze, perché poi devi andare al male, perché poi mi scrivi che hai mangiato quella cosa e non lo volevi fare. Quindi parte il senso di colpa. Sì. Si punta su quello. C'è una cosa che hai pensato per i nostri ascoltatori, vero? Se scrivono sulla pagina che adesso lasceremo, qual è la cosa che hai pensato? Io ho pensato questo, visto che chiaramente anche tramite social io faccio delle consulenze, stabilisco dei contatti per delle consulenze personalizzate, perché poi ognuno ha i suoi problemi, ha i suoi magagni, i suoi problemini di salute. E allora posso andare in zoom con tutta Italia. Allora chi sulla mia pagina o sul mio profilo scrive Radio Radio, oggi avrà. Semplice. Sì, semplicissimo. Avrà una consulenza gratuita. Capito. E ricordatevi di scrivere Radio Radio. Radio Radio. Io sono di Radio Radio, ho ascoltato Radio Radio, sono ascoltatore di Radio Radio e avete una consulenza gratuita. Poi come funziona? Dalla consulenza c'è un modo per prendere appuntamento oppure rimane sempre tutto online? Allora, per lo più rimane online, perché tranne che se non abitiate, attualmente ho uno studio a Trento e uno a Roma in via Lucio Sestio. Quindi possibilità di vederci c'è. Ma se non abitate in zona, ma per carità, si può prendere un appuntamento, vedersi in zoom, fare un vero e proprio colloquio nutrizionale, qui si seguirà via email una dieta personalizzata e da lì continuare un rapporto, magari entrare nei gruppi di supporto online che ho creato per seguire 24 ore su 24 le mie pazienti. E quali sono, diciamole, per le nostre ascoltatrici o anche per gli ascoltatori? Quali sono queste pagine? Allora, il mio profilo Facebook privato, Patrizia Rita Di Gregorio, oppure la mia pagina Facebook, Olisticale Studio Nutrizionale della Dottoressa Patrizia Rita Di Gregorio. Potete trovare la dottoressa sulla pagina Olisticale Studio Nutrizionale Dottoressa Patrizia Rita Di Gregorio o anche il sito www.olisticale.net. Io ringrazio di nuovo la dottoressa per essere stata qui con noi. Partiamo tutti, torniamo a Trento con te. Grazie, che bello, sì, grazie.